L'Arezzo ha vinto 5-0 l'amichevole giocata stamattina a Bucine contro la locale formazione di eccellenza. La partita è cominciata alle ore 10 per evitare il solleone di questi giorni. Doppietta di Talarico nel primo tempo due volte a segno d'Ursi nella ripresa. Sul tabellino marcatori anche Capitan Moscardelli. Lavoro differenziato per Cenetti, Ferrario e Foglia che non hanno preso parte alla sgambata. Bellucci ha utilizzato in entrambe le frazioni di gioco il 4-3-1-2, modulo su cui sta lavorando dal primo giorno di ritiro. Rispetto alle gare precedenti, compresa quella di Coppa contro la Triestina, sono stati impiegati giocatori che avevano meno minuti nelle gambe. Rinaldi ha dato un buon contributo di solidità al reparto difensivo, mentre Criscuolo si è fatto apprezzare per le geometrie nel ruolo di play davanti alla difesa. Sulla tre quarti tra primo e secondo tempo si sono alternati Grossi, Corradi e Cutolo. A testimonianza degli esperimenti che sta portando avanti l'allenatore anche per valutare le alternative a disposizione in quella zona di campo. Tallarico si è ben comportato anche a sinistra dentro i secondi 40 minuti a ritmi non altissimi e vivacizzati, oltre che dalla doppietta di Dursi e anche dal bel gol di Moscardelli. In campo da regista De Feudis che è comunque in uscita sul mercato. Prossima amichevole mercoledì 9 agosto alle ore 21 a Sansepolcro.